Ciao a tutti, sono arrivate alcune mail a Scrivi a Gallera che riguardano il mio progetto di legge sulla valorizzazione della figura dell'infermiera e delle professioni sanitari, il PDL 231. Per quattro anni e mezzo ho avuto l'onore di essere l'assessore al welfare di Regione Lombardia, quindi di lavorare intensamente a rafforzare il sistema sanitario lombardo. Ho vissuto il Covid in prima persona e oggi posso dirvi che una figura importantissima accanto a quella dei medici sono sicuramente gli infermieri e gli altri rappresentanti delle professioni sanitarie. Hanno fatto un lavoro straordinario durante il Covid e oggi sono un grande pilastro del sistema sanitario. Ecco, dobbiamo valorizzare queste figure, dobbiamo valorizzare le loro competenze, le loro capacità. Per questo alcuni mesi fa ho presentato anche un progetto di legge ad hoc, affinché venga istituita la figura del direttore assistenziale all'interno della direzione strategica e affinché sia consentito, così come per i medici, finalmente anche la libera professione per infermieri e anche per gli altri rappresentanti delle professioni sanitarie. Pensiamo alle ostetriche, ai tecnici di radiologia, ai fisioterapisti. Dobbiamo valorizzarli, sono una delle grandi linfe del nostro sistema sanitario lombardo. Io voglio fortemente impegnarmi in questa direzione nella prossima legislatura.